Contenuto extra. Tre consigli per organizzare una visita guidata di gruppo con la tua classe. Consiglio numero uno. Chiedere alla persona che guiderà il gruppo di prevedere delle pause in cui scattare le fotografie, prendere appunti e fare dei video. A differenza delle visite guidate più tradizionali in cui il gruppo classe segue l'accompagnatore e pone delle domande alla fine del percorso. Qui la visita propedeutica alla realizzazione dell'audioguida si configura come un momento di produzione. Per questo è importante che ci sia il tempo per riordinare gli appunti, osservare con calma i dettagli e porre delle domande all'accompagnatore o all'accompagnatrice per comprendere meglio il monumento. Secondo consiglio. Suddividere i partecipanti in piccoli gruppi di lavoro è assegnare a ognuno di loro un compito preciso. Chi insegna sa bene che suddividere gli studenti e le studentesse in gruppi significa anche gestire meglio le fasi del lavoro. In questo caso abbiamo un doppio vantaggio. Il primo vantaggio riguarda il coinvolgimento degli studenti, quindi se ognuno di loro avrà un compito preciso sarà più facile mantenere alta l'attenzione. Il secondo vantaggio riguarda proprio la produzione di contenuti. Andando a suddividere i compiti degli studenti evitiamo anche di avere dei doppioni e quindi la fase di selezione del materiale, foto, video e testi, sarà molto più semplice. Terzo consiglio. Prevedere un momento finale di riepilogo in cui caricare tutto il materiale prodotto in una cartella in cloud. Considerando che ogni studente scatta fotografie e realizza video con il proprio smartphone c'è il rischio che a distanza di tempo una parte di questo materiale venga perso. Per questo motivo conviene caricare e selezionare tutto il materiale contestualmente alla visita guidata. Ci sarà una lezione dedicata al caricamento dei materiali in una cartella condivisa in cloud. Puoi seguire queste indicazioni per il progetto di storia e anche per altri progetti che realizzerai in futuro.